E allora cosa dobbiamo fare? O dunque parole del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le veste, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, tarda al lira e ricco di benevolenza, e si impiedotisce riguardo alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi e lascia dietro a sé una benedizione? Ecco, fratelli, il Signore dice non vi resta che ritornare a me. E come ritornare? Con digiuno, con piante e con lamenti, ossia sul serio. Laceratevi il cuore e non le veste. Signore, ci limita a lacerare il cuore, un cuore lacerato, un cuore che a brandelle, un cuore comprito, che non ce la fa più, tant'è il dolore, tant'è il sangue. Ritornate al Signore vostro Dio, perché se avete il cuore lacerato, egli è misericordioso e benigno, egli si impiesodisce e cambia il decreto contro di noi e lascia dietro di sé una benedizione. Signore, noi vogliamo essere benedetti questa sera, ma tu vuoi che noi laceriamo il cuore e ritorniamo a te con sincerità. Soltanto un ritorno sincero potrà placare la tua ira che grava su di noi e darci la tua benedizione. Grazie, Signore Gesù.